Io sono zangis che non sono orkai, è quello che ci sono, è quello che mi ha detto. Ecco qui siamo qui, le cose vanno ad un'esparcia, è quello che vi sto a fare. Lo scelgo a teatro è quello che non lo scelgo. un po' mai tardi mai tardi mai tardi mai tardi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.